Ebbene eccoci quindi con le pagine dedicate allo sport, come ogni lunedì naturalmente un spazio maggiore per seguire un po' i risultati anche di tutti gli sport che si giocano nella nostra regione. Apriamo con il giornale dell'Umbria, domenica amara il titolo, Perugia e Ternana in crisi, cadono entrambe, fischi e delusione tra le due tifoserie. Per la Serie D, Foligno esplua esterno a Scandicci, il Gubbio senza idea a Lucca è solo pareggio, per il Castello sì il derby suo il derby contro il Sansepolcro. Vedremo poi all'interno una partita veramente molto emozionante. Trestina capolista a Valanga sul Cannara, Subasio insegue. Fontanelle e Orte ok in promozione, una vettoria per il primo posto nei rispettivi gironi. All'interno quindi Grifo così non va, cacciati condanna, nuovo passo indietro per la squadra di Bisoli, Perugia va in svantaggio con l'uomo in più. Gli sforzi nel finale lo servono per il pari, la vittoria quindi dell'Ascoli 1-0. Al Perugia di Bisoli manca concretezza in zona gol e si dice brutto stop per il Grifo. Bisoli difende la squadra, ci è mancato solo il gol, la classifica ci penso a dicembre. Ore di riflessione per Santo Padre, col Brescia si gioca la panchina. Poi la Ternana da psicanalisi, Lentella va, altro incredibile scivolone interno degli uomini di Breda, contestazione dei tifosi. Altra debacle per la Ternana, quindi la sconfitta interna con Lentella per 2-1. La giornata quindi di ieri con il grande derby, Castello a tutto gas, cinico il derby è suo, battuti il Sansepolcro con una rete di EDM, ma gli Umbri sono stati un po' fortunati come si legge dalle cronache che arrivano naturalmente da Sansepolcro. e Cerbella una vittoria che dà morale, il tecnico Umbro però ammette di dover anche ringraziare la dea bendata. Questo per il Città di Castello, una partita dicevamo molto emozionante, fino all'ultimissimo, proprio una partita che è terminata al 97esimo e con la formazione Tifernate, che quindi è riuscita a vincere, a portare via nel derby, sempre molto sentito con il Sansepolcro, i tre punti quindi per la formazione del DS Fabio Calagretti, un grandissimo risultato per anche l'entusiasmo dell'entourage. Abbiamo visto anche ieri sera molti nei social, molti commenti anche dei dirigenti, massimi dirigenti della società bianco-rossa, che insomma dicono i derby comunque con il Sansepolcro, è sempre il derby dell'Alto Tevere. Ai Gubbio quanti sprechi, finisce senza gol, due interventi prodigiosi del portiere, avversario, un calcio di rigore fallito da Ferretti, gli Umbri si mangiano le mani. Lo 0-0 del Gubbio a Ghivizzano, poco concreti, si legge, i rosso-blu, Pascolini rammaricato, meritavamo noi, abbiamo giocato meglio degli avversari. Lo Spoleto interrompe la crisi e guarda avanti, dopo sette K.O. consecutivi di Umbri colgono un prezioso pareggio contro il Gavorrano e tornano a muovere la classifica e si parla della riscossa dello Spoleto. Ma intanto un Gualdo tutto cuore, Montemurlo sconfitto, è una rete di Villanova al quarto d'ora del primo tempo a decidere il match e il Foligno ritrova se stesso a Scandici, prova di forza per riprendere quota, 2-1 per la formazione dei Falchetti. Manita Subasio, Poricelli ne fa 3, torna il sorriso, il Bastia paga tutte le disattenzioni, 5-1 della Subasio grazie al bomber Poricelli. Trestina, dominio da leader col Cannara è tutto facile, 3-0 per la formazione trestinese contro il Cannara. Questi risultati quindi che prendiamo dal giornale dell'Umbria. Fontanelle, a gonfie vele, primo posto blindato. L'iniziale svantaggio non scompone i padroni di casa che ribaltano i risultati e si aggiudicano i tre punti. Intanto il Lama non si ferma più, un'altra vittoria che vale il terzo posto in classifica contro il Casa del Diavolo da vittoria per 2-1. Pari tra Madonna del Latte e Tavernelle, questo per i risultati dei campionati di calcio che abbiamo analizzato. Andiamo a vedere a questo punto il volley con la Sir che si legge nel titolo, Sir che brusco risveglio. L'Ubbe ok, i block devil del patrone Sirci lottano punto su punto ma la Lube non lascia scampo. Un 3-0 per la Lube Civitanova contro il Perugia in un pala evangelistri strapieno anche ieri. Questo quindi per il giornale dell'Umbria. Ma andiamo all'interno a vedere i commenti anche dal Corriere dell'Umbria. Grifo di nuovo in crisi, fere liberati e tabù, 2 K.O. sorprese, il Perugia 1-0 da Ascoli, la Ternana 2-1 interno con l'Entella, la sconfitta. I problemi di Bisoli e Breda, la superiorità numerica e la rimonta che non c'è. Grifo è un K.O. che fa male, il titolo del Corriere dell'Umbria. Poi esame fallito, dobbiamo essere molto più cinici, questi commenti che arrivano da Perugia. Ternana, orrore, liberati tabù, trionfo, Entella. I commenti che arrivano anche da Terni. Ma scendiamo, andiamo a vedere la serie D. Di Paola, formato killer, città di Forigno in gloria, in braccia la doppietta e stende a domicilio lo Scandicci, eccellente 2-1 esterno. Quanto è bello il guardo a casa Castalda, stesa la capolista, giolli Montemurlo con un gol del solito Villanova. Città di Castello festa al Borgo, DME segna il gol della vittoria. E se si sbaglia il rigore del pari, il Sansepolcro resta lasciutto. Quindi anche un calcio di rigore che hanno avuto a disposizione la formazione bianconera del Sansepolcro, ma che non è riuscita a mettere a segno e come dicevamo una gara che ha avuto emozioni fin dopo il novantesimo perché al novantaduesimo Gorini ha provato una punizione direttamente in porta respinta dal portiere ma poi al novantasettesimo Calvaresi salva sulla linea il tiro di Tavernelli. Quindi la vittoria nel derby della formazione del DS Calagretti. Ferretti sbaglia il rigore, il Ghivizzano si salva, Gubbio all'attacco ma sbaglia troppo e alla fine non va oltre lo 0-0. E poi Cacciari spietato con il suo Bastia, la Subasio dilaga la formazione quindi con Poricelli che è andato a segno tre volte anche ieri. Belcalcio a Trestina e vetta solitaria, Ceccagnoli durante i sali si liquidano la pratica a Cannara per 3-0. Fontanelle-Branca d'Acquopione meritato 3-1 con il Cerqueto, Paradisi passi di un otto gol, tengono gli Agubini in vetta al girone. Impresa del Marra, tre gol in 21 minuti per ribaltare i Lerchi, scappato sul 2-0, 3-2 quindi il finale. E andiamo a dare un'occhiata anche qui al titolo del Corriere dell'Umbria alle pagine della Pallavolo quindi l'Ubbe con una marcia in più, Sir, Safety, Conad al tappeto. I bianconeri non concedono il bis e i cusinieri dilagano alle evangelisti. 3-0, gli uomini di Castellani pagano l'incorsistenza al servizio, una difesa soprattutto a muro resa inefficace dagli incisivi affondi di vari. Quanto regna Milinkovic e Stankovic? Sir ci amareggiato, non cerca scuse, abbiamo giocato una brutta gara. Nel derby di B2, Gerardi Cartoedit spietata col Foligno e la gara che rivedremo domani sera nel canale 111 alle 21 e circa, il derby tra Gerardi Cartoedit, Città di Castello e Foligno. questo per il volley, andiamo con la Nazione. Perugia grande flop ad Ascoli, Capò con l'uomo in più, caccia da lezioni di gol e anche qui si mette in evidenza il fatto che i perugini hanno giocato anche con un uomo in più ma la vittoria è andata all'Ascoli. Ternani in casa propria non va, il derby va al Castello, decide di a me, rigore fallito dal Sansepolcro e anche qui espulsi Zanchi, giorni il tecnico Mezzanotti e il suo vice Nicastro, insomma, una giornata un pochino nervosa ma i derby sono sempre i derby. Orgoglio, Gualdo, Casacastalda, Villanova piega la capolista e poi Di Paola incanta il Foligno, avanza, il Gubbio crea ma non punge, gara bloccata, i rossobruci provano, Gli Vizzano regge, doppio giallo a Conti. La reazione dello Spoleto, quindi, scendiamo di categoria, durante i sali si esaltano il primato del Trestina e poi la Subasio che si riscopre grande. Andiamo a dare un'occhiata anche al titolo della formazione, qui si parla della vittoria dell'acqua e sapone che fila liscia a Parma, prestazione maiuscola nella Serie A1 femminile di basket, 75-49 risultato finale a favore delle altotiberine dell'acqua e sapone Umberti. De Poi la Serie sbatte contro la Lube Macerata Superlega, dopo tre vittorie consecutive i bloc-devis cadono al pala evangelisti. La maledizione del Liberati, il titolo del messaggero, passa anche Lentella con un gol dubbio di Masucci, che sembra in evidente fuorigioco. Inutile la rete nel finale di Alberto Masi, i Liguri hanno saputo gestire al meglio la partita. Finita la pazienza dei tifosi e di Longarini, pesante la terza sconfitta in casa, sabato prossimo c'è una sfida difficilissima contro il Crotone. Tutta colpa dell'ansia il titolo ancora del messaggero. Perugia disastroso ad Ascoli contro una squadra in dieci e in grande difficoltà tecnica e psicologica, gli uomini di Bisoli si fanno infilare da caccia. Sire e Conad rimandata all'esame Lube Cilita Nova, 3-0 il risultato per i marchigiani. Doppio di Paola, il Foligno riparte, i Falchetti passano a Scandici con un primo tempo super, una doppietta del Bomber, non fa paura il gol di Mengali. Questo per il Foligno, e poi Voluntas un punticino per sperare ancora, un'altra espulsione, poi segna Mascula, 5 minuti dalla fine, 1-1. Gubbio, momento no, rigore sbagliato e Mugugni in società. Finisce 0-0 con il Ghivizzano. Tante recriminazioni. Guado da urlo, con Bocchini, batte la capolista Montemurro 1-0 e poi Castello, che brividi, stende il Sansepolcro in trasferta 1-0. Bene, con questo è tutto per la nostra rassegna stampa di questa mattina, di questo lunedì 16 di novembre. Vi ricordo i nostri appuntamenti informativi dalle 10 in poi RGM Flash, ogni ora fino alle 18.30 ci sarà poi il notiziario naturalmente di RGM e quindi ad ogni ora e l'appuntamento poi alle 13.45 l'appuntamento con la TV, naturalmente con il nostro Plus per quello che riguarda gli appuntamenti con i nostri telegiornali alle 19 con il TG Provincia il TG dedicato al comprensore dell'Alto Chiascio e il TG Sport sui canali 11, 111, 211. Ma naturalmente tutte le notizie aggiornate minuto per minuto sul nostro sito internet www.trgmedia.it che potete vedere fin da ora con tutte le notizie che vengono aggiornate. Si parla naturalmente nella home page che potete vedere della tragedia di Parigi e con le tante preghiere presso il sito del San Francesco di Assisi e poi potete vedere tutti quanti i servizi dei nostri TG che vengono naturalmente inseriti nel nostro sito www.trgmedia.it Con questo è tutto ringrazio voi telespettatori l'appuntamento naturalmente con la nostra rassegna stampa il TG Mattino è per domani mattina alle 7.30 puntuali Una buona giornata! Grazie a tutti!